Le lenti a contatto dove vanno? Se vuoi ti insegno un trucchetto che uso quando non so dove buttare le cose. Quando hai dei dubbi e non sai dove buttar. Indifferenziata. Indifferenziata. Se sei un po' indeciso tra la carta e l'umido. Indifferenziata. Indifferenziata. Basta che guardi l'app sul tuo cellulare. Il rifiutologo ti potrà aiutare. Dai, basta. Mi metti a disagio. Scusa, pensavo alle 8 di mattina. Non è per qualche cosa. No, no. No, no. Scusa, pensavo alle 8 di mattina. No, no. No, no. Grazie a tutti.